La situazione di scarsa sicurezza cui è stata condannata l'aria in questi anni è inaccettabile. Queste le dure parole del Comune di Cesena nei confronti della Compagnia del Sacro Cuore per quanto riguarda il famigerato cantiere che da più di una decade tiene in scacco la zona di Via Padre vicino da Sarsina. Il sequestro per abusi edilizi prima, le difficoltà finanziarie della Compagnia del Sacro Cuore poi hanno infatti paralizzato i lavori lasciando in mezzo alla strada i blocchi di cemento che occupano parte della via e rendono difficile e pericolosa la circolazione di macchine, pedoni e biciclette. Così, nella giornata di lunedì, l'amministrazione comunale si è incontrata con i responsabili della società per stabilire un piano per i prossimi mesi. Due le opzioni in campo. La prima riguarda la costruzione di un parcheggio che inizialmente doveva essere di 360 posti auto ma che dal nuovo progetto ne prevederà circa 150. Da questo punto di vista però bisogna capire se la Compagnia del Sacro Cuore riuscirà a trovare degli acquirenti per il terreno in quanto la società non sembra interessata a prendersi carico del progetto. In caso contrario si passerebbe al piano B le barriere che delimitano il cantiere verranno fatte sparire subito dopo l'estate anche se non è dato sapere cosa ne sarà di tutto il resto del terreno diventato ormai una sorta di oasi ecologica. Insomma la situazione è ancora una volta in stand by con Sacro Cuore in cerca di nuovi investitori e il Comune messo nuovamente in attesa. Il prossimo colloquio è stato concordato per fine giugno.